Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con il nostro telegiornale delle 19. Proseguono le indagini sull'omicidio dell'anziana di 72 anni, Rosetta Quaiattini, trovata morta carbonizzata e con un taglio alla gola venerdì mattina nella sua abitazione di Beivars, piccola frazione alle porte di Udine. Terminata ieri sera i lievi dei carabinieri del RIS di Parma nella casa colonica, questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Udine hanno svolto una riunione operativa con il PM Paola De Franceschini e una ricognizione nella zona. Non possiamo ancora sbilanciarci e teniamo aperte tutte le ipotesi, ha riferito il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, spiegando che si sta valutando sia l'ipotesi che l'assassino sia un estraneo, sia che conoscesse la vittima. Ipotesi quest'ultima su cui si sarebbe orientata a una cautissima preferenza. L'abitazione non presentava infatti segni di effrazione, molto dipenderà anche dall'orario del decesso che sarà stabilito solo all'esito dell'autopsia che verrà eseguita martedì dal medico legale Carlo Moreschi, un escursionista di 50 anni di Clout, tecnico del soccorso alpino Valcellina e si è infortunato mentre si trova nei pressi di Casera Frate a quota 1200 metri nella zona del gruppo Raut Resetum. Il tecnico stava scendendo con i ramponi ai piedi quando ha scivolato per alcuni metri incastrando un rampone in un ceppo che gli ha causato la frattura di una caviglia. Lui stesso ha fornito con precisione ai soccorritori il punto preciso in cui si trovava è stato raggiunto dall'elissocorso. Un incendio è rivampato invece nella notte nell'agriturismo Tecorda di Rino a Torreano nella frazione di Prestento. L'allarme è scattato poco dopo le 23, l'incendio è partito dall'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda alimentato a legna e collocato sotto una tettoia a ridosso del fabbricato. Da qui le fiamme si sono propagate andando a intaccare una parte della linda e del tetto di legno per circa 40 metri. L'impianto termico è andato completamente distrutto. Le cause non sono state accertate ma con molta probabilità sono da ricondurre a un guasto dell'impianto. Sul posto sono intervenute le squadre vigile del fuoco del distaccamento di Cividale, della sede centrale di Udine, del distaccamento di Gemone e del comando di Gorizia che hanno lavorato fino alle 4.30. La struttura è stata dichiarata inagibile a causa dei danni causati dal fumo. Dopo l'annuncio definitivo della proprietà della Eton di voler chiudere lo stabilimento monfalconese arriva l'incubo di depressione e atti violenti da parte dei lavoratori. È un viaggio senza ritorno quello della Eton di Monfalcone. 157 operai più quelli dell'indotto a casa e comincia l'incubo, depressione e atti violenti. Poco più di due mesi, 75 giorni e tutto sarà finito, chiuso e finirà nel buio. Situazione poi ancora più drammatica con i lavoratori che continuano a entrare nello stabilimento per lavorare. Tra i turni 6.14, 14.22, 22.06 del mattino, dal lunedì al venerdì e poi, il fine settimana, il presidio di chi dorme accampato nella saletta delle RSU. E nonostante l'azienda abbia consigliato di rimanere a casa, in quanto la situazione non cambierebbe affatto, tutti continuano a timbrare il cartellino. La gente sta andando in depressione, conferma Luca Sterle, coordinatore della RSU, e succede come nella crisi precedente, con operai ricoverati e finiti al centro di igiene mentale. A cui fa ecco Thomas Casotto, segretario generale della CGL di Gorizia. Non è consentito usare questa crisi e la gente che ne è rimasta vittima per fare campagna elettorale, dice. Aspettiamo risposte istituzionali da qualunque parte vengano. Mentre si continua a guardare a fincantieri, credendo giusto continuare su questa strada. A breve, poi, i lavoratori andranno in comune a presentare i curriculum, chiedendo se i posti in fincantiere, promessi qualche mese fa, ci sono veramente. Il patto per l'autonomia ha consegnato le firme raccolte in vista delle elezioni del 4 marzo e ha ufficializzato le candidature. I candidati all'unonominale sono Camera Collegio Trieste, Erika Furlani, alla Camera Collegio di Gorizia, Lucia Pertoldi, per la Camera Collegio di Udine, Diego Navarria, per la Camera Collegio di Codroipo, Massimo Moretuzzo, alla Camera Collegio di Pordenone, Marcus Marmaier, per il Senato Collegio di Trieste, Elisabetta Basso, per il Senato Collegio di Udine, Tulio Avoledo. Scatta il divieto per parrocchie o enti ecclesiali dell'Arcidiocesi di Gorizia di ospitare qualsiasi incontro di natura politica o sindacale. Ancora decreti per l'Arcidiocesi di Gorizia. Con giovedì 25 gennaio è entrato in vigore un decreto sull'utilizzo delle strutture parrocchiali o di altri soggetti ecclesiali da parte di partiti, movimenti e organizzazioni di natura politica e sindacale. La Chiesa si legge nel testo divulgato dall'Arcidiocesi di Gorizia e firmato dal recivescovo Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, ha in alta considerazione l'impegno dei cittadini come singoli e come associati in vista del bene comune. Coloro che decidono di impegnarsi direttamente nella vita politica sanno però di assumersene la responsabilità come singoli o associati, senza poter pretendere di essere espressione diretta della Chiesa, prosegue la nota. Dinanzi alla richiesta di utilizzo di sedi o di strutture parrocchiali o diocesane per riunioni e di incontri organizzati da partiti, movimenti e organizzazioni di natura politica o sindacale, si rende necessario quindi regolamentarne l'uso per evitare strumentalizzazioni che possano creare confusioni nei fedeli. Con riferimento alle prossime scadenze letcorali, su scala nazionale e regionale, le parrocchie, i santuari, le scuole cattoliche o di ispirazione cristiana, i centri culturali, le associazioni, e i movimenti ecclesiali non possono mettere a disposizione ambienti per iniziative organizzate o gestite da partiti, movimenti o di organizzazioni politiche e sindacali o comunque a favore degli stessi, continua la nota. Saranno i paroci e gli amministratori parrocchiali dunque a vigilare in modo che le attività pastorali non vengano strumentalizzate a fine elettorali con iniziative che coinvolgano a qualsiasi titolo persone candidate o già impegnate a livello politico. Teatro tutto esaurito per il ricordo della Shoah e degli orrori della seconda guerra mondiale perpetrati dai nazisti. Andiamo a Gorizia. Onorabili, le vittime che ricordiamo in questa giornata formano il nostro minuto di silenzio. Grazie. Grazie. Il minuto di silenzio che oltre 700 ragazzi delle scuole goriziane hanno osservato al Teatro Giuseppe Verdi è stato uno dei punti più intensi dell'incontro organizzato da Will Scuola, amici di Israele, comune di Gorizia, per ricordare il giorno della memoria e per quanto riguarda la partecipazione si può osservare che è stata piena, completa e soprattutto sentita dentro. Questa cosa più o meno ormai l'ha portata avanti da molti anni. È cambiato qualcosa secondo voi in questi anni? Sta cambiando la sensibilità. Noi dovremmo far capire, sta cambiando la sensibilità dei ragazzi. È quello che noi vogliamo colpire. I ragazzi, perché da 14 anni sono sempre diversi i ragazzi. Noi vogliamo far capire ai ragazzi, cercare di far capire cosa è stata la Shoah e cosa sono i campi di esterminio e cosa può succedere se ritorniamo alla storia. Perché quando parliamo perciò di trattamenti discriminatori nei confronti delle persone si possono declinare e tradurre in mille altre circostanze. Perciò l'importante è poi un'altra raccomandazione che io faccio sempre ai ragazzi di acquisire la conoscenza con granosalis. Facciamo attenzione nel mare Magno, in questa grande marea di informazioni che offre internet, facciamo attenzione a selezionare ciò che è informazione e ciò in vivo c'è che non lo è. Durante la cerimonia per la giornata della memoria a Gorizia, ieri Ampi e Anedan non hanno potuto prendere la parola allo sdegno delle associazioni che lo ritengono un gesto vergognoso. Cerimonia di commemorazione per la giornata della memoria anche a Re di Puglia davanti alla stela dei deportati del paese. Momenti toccanti accompagnati dal coro così di ruda diretti da Deglia Stabile. Tra i racconti di chi vide il proprio padre partire per sempre sui cari di bestiame a chi quella guerra la vite da vicino. Anche amarezza per quanto successo la mattina stessa a Gorizia durante la medesima cerimonia. Ad Ampi e Aned infatti non è stato concesso di prendere la parola, gesto duramente criticato da entrambi i sodalizi. È stata una cosa molto vergognosa da parte del sindaco di Gorizia a impedirci di salutare, di dare un saluto a quei poveri che hanno sofferto e che certi anche non sono più ritornati nelle loro case durante la giornata della memoria. È una giornata dedicata alla deportazione e trovo una cosa veramente vergognosa che un sindaco di una città come Gorizia non abbia permesso di dare a noi la parola durante la cerimonia. È una cosa, ripeto, vergognosa. Grande successo della mostra inaugurata al Museo Etnografico del Friuli dal titolo Penne d'amor trovate, la collezione di Mario Baschirotto della penna ad hoc alla stilografica. L'evento si inserisce nel progetto racconti d'inchiostro e strumenti della scrittura ed è una delle attività che per un mese si rivolgeranno al mondo dell'infanzia e non solo affinché possano approfondire un mondo che sembra quasi in via di estinzione. Inchiostro, la bella scrittura e tutto quanto ruota intorno ad essi. L'esposizione è restita nella prestigiosa sede dell'associazione Antropoi 21 e solo apparentemente rivolta agli appassionati del settore, vista la natura del collezionista che la gentilmente messa a disposizione. In realtà si propone come uno spazio di congiunzione tra gli adulti e i ragazzini, tra nonni e nipoti che possono avvicinare un mondo di manualità, la scrittura, sempre più lontano. La storia della penna stilografica passando attraverso la penna ad inzuppo e gli strumenti e essi collegati, inchiostro, calamai, netta pennini e gli oggetti legati alla scrittura in viaggio dell'Ottocento, la corrispondenza di guerra e gli oggetti mirabili per tecnica ed estetica, oltre al mondo rivolto all'infanzia, questi sono i temi che si possono vedere e leggere. La CDA di Talmassons ha donato un assegno da 2.000 euro raccolti tramite il micro dono all'associazione endometriosi FWG Onlus, i motivi e i ringraziamenti nelle interviste. Si è concluso il progetto di raccolta mediante il progetto crowdfunding intitolato micro dono di CDA, un progetto nato comunque da Anima Impresa, Associazione No Profi del Friuli Venezia Giulia, la quale ci ha permesso di identificare su un secondo tastino del caffè un importo, un caffè maggiorato di 10 centesimi. Lo stesso ha generato 9.000 click, quindi una raccolta di 900 euro dove i nostri utenti hanno deciso di beneficiare, in questo caso l'associazione endometriosi Friuli Venezia Giulia, che la nostra azienda ha portato poi a raddoppiare la stessa cifra, arrotondandola a 2.000 euro. Questo è un progetto nato a gennaio 2017 e si è concluso a dicembre in pratica. Questo permette all'associazione di endometriosi ormai attiva nel territorio sia regionale che nazionale, da ormai un ventennio, per portare avanti una malattia che non è riconosciuta come l'endometriosi, una malattia che crea danni agli organi e non permette alle donne anche di perdere il lavoro, di non lavorare, di non avere figli. Quindi l'imprenditore Fabrizio Catelande, la CDA, ci ha permesso di portare avanti un progetto dell'associazione in modo di far conoscere e divulgare, sostenere e farci conoscere sia in regione sia a livello nazionale la problematica che cattura tutte queste donne e tutte le loro famiglie che soffrono di questa malattia. Bene, termina qui il nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortesa e fedele attenzione al nostro telegiornale regionale. Adesso Luca Fornasiero può mandare la sigla di chiusura. Ci vediamo alle 22.15. Grazie a tutti.